Si aprono le gabbie, partiti i cavalli della quarta corsa, il premio Guido Berardelli, gruppo 3 per i cavalli di due anni. Parte bene subito dall'interno l'unica femmina contro i maschi, Norona, buona partenza dall'esterno anche per Turbiondo, deciso a farsela davanti, buona partenza anche di Avengers Endgame che ha preso un po' la mano al suo interprete, ma è comunque davanti insieme allo stesso Turbiondo, la schiena di Avengers l'ha presa il favorito, Cool and Ray con la giubba bianca e rossa, più all'interno troviamo la giubba dell'immobiliare Casa Paola di Urus, alle cui spalle gravitano Elise Montasa al suo esterno, mentre all'interno c'è la giubba celeste di Spirit Noir, poi un terzetto formato da Voices from War, Torquato, Luigi Pirandello e a chiudere il gruppo troviamo Aurelius in Love. La prima parte di gara è stata abbastanza brillante con Turbiondo e Avengers Endgame che hanno dato vita ad un bel parziale, terza posizione in questo momento all'esterno per il favorito Cool and Ray che mantiene al suo interno Norona, poi Elise Montasa, Voices from War, Torquato, ancora Urus, Spirit Noir, Luigi Pirandello e Aurelius in Love. Questo è tutto il gruppone quando siamo già in dirittura d'arrivo con Turbiondo che si è arroccato allo steccato, Avengers Endgame è il primo a cercare lo spunto dall'esterno, in terza corsia troviamo il favorito Cool and Ray che si trascina Elise Montasa, mentre all'interno c'è Norona, la femmina, si avvicinano da lontano Luigi Pirandello che deve trovare il barco, poi dal centro della pista ci prova anche Torquato, ci prova Aurelius in Love che ha pescato un buon barco e poi ancora più all'esterno Voices from War, siamo a 300 dal palo, qualcosa di più con Cool and Ray che dà l'attacco a Luigi Pirandello che nel frattempo è leggero vantaggio, all'esterno provano a impegnarsi anche Aurelius in Love e lo stesso Torquato, all'interno c'è Norona, 5 cavalli in un ampio ventaglione con il leggero vantaggio in questo momento, Norona attaccato all'esterno da Luigi Pirandello, Aurelius in Love che fa lo scatto, Aurelius in Love con un magnifico scatto, vince il premio Guido Berardelli e concretizza una grandissima ascesa, ci aveva messo 6 corse al set.